Siamo di nuovo con Cinzia Fedeli, l'estetista presso il centro Matrix di Piazza d'Armi di Spoleto. Oggi Cinzia ci spiega come vengono preparati i piedi. Allora, vengono immersi nell'acqua, tiepita, poi vengono tolti dall'acqua, viene asciugato il pietre, poi vengono tagliate le unghie, a piacere della cliente sempre, o limate o tagliate, poi vengono tolti i duroni sotto la pianta, con una raspa viene limato il piede in modo che diventa liscio, viene spinto le pelli dietro con un macchinario, una fresa, vengono tolte le pellicine, quello che non leva il macchinario viene tolto con le tronchesine, poi viene applicata una crema a piedi e poi viene messo lo smalto e il piede è finito. Grazie a tutti.